È stata una giornata molto importante oggi a Crognaleto dove Nerito è stata inaugurata l'autorimessa comunale dove all'interno è stato allistito anche il centro polifunzionale della protezione civile. Ma non c'è stata solamente l'inaugurazione di questa importantissima struttura perché è stata conferita anche la cittadinanza onorare ad Angelo Borrelli, ex capo della protezione civile. Io credo che fra le tante cose che abbiamo fatto nel percorso, nel decorso della mia amministrazione credo che quella di oggi veramente sia l'attività più importante. Un centro polifunzionale di protezione civile ma con tutti i crismi a partire dalla sala operativa comunale, a partire dalla tecnologia avanzata, a partire dagli strumenti e dai mezzi a disposizione del centro operativo. Quando parliamo di protezione civile parliamo di tutela della cittadinanza, quindi chi più ne ha più ne metta. Il 2017 ha segnato un momento importante. Il Comune di Cronianeto ha pagato un grosso tributo la perdita di persone, la perdita di cittadini cari. Da lì abbiamo imparato che cosa significa potenziare e attrezzare il sistema di protezione civile. Devo ringraziare la protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, capo dipartimento del periodo, che ha raccolto il grido di allarme dell'amministrazione di Cronianeto e io spero che questo modello, definiamolo così, sia replicato su tutte le amministrazioni. Perché guardate, protezione civile è un sistema che si attiva, è una sinergia che va, sì vero dal Dipartimento, sì vero dal Sindaco che è l'autorità di protezione civile, ma da un sistema che è fatto dal volontariato, dalla Croce Bianca e dalla cittadinanza. Oggi qui abbiamo la dimostrazione come la cittadinanza attiva partecipa al sistema di protezione civile. Per me è un grande piacere partecipare anche all'inaugurazione del centro polifunzionale che è stato istituito qui nel Comune di Cronianeto, che è un grande presidio per la sicurezza dei cittadini. Con l'occasione mi verrà consegnata la cittadinanza onoraria, che testimonia il grande rapporto che c'è tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e i territori, nel caso specifico nel Comune di Cronianeto e poi permettetemi un grande rapporto con il Sindaco Giuseppe D'Alonso che conosco dal 2009 e con il quale abbiamo affrontato diverse emergenze. Abbiamo supportato il Comune in tutti i modi, anche finanziando un'autorimessa comunale per il ricovero dei mezzi necessari per spalare la neve nel periodo invernale. Quindi sono orgoglioso di quello che il Comune ha fatto e soprattutto della promessa che siamo riusciti a mantenere.